Stasera terza serata di Cine Nostrum, la rassegna cinematografica organizzata dal comune di Eccicatena e che vede protagonista quest'anno Ornella Muti. La grande attrice romana si sta concedendo al pubblico siciliano nel corso di questa settimana, ma il pubblico di Piano Umberto, oltre ad ammirare da vicino lo splendore immenso della Muti, sta avendo la possibilità di rivedere i film che l'hanno resa celebre. Ieri sera è stato proiettato Io e mia sorella, pellicola che l'ha vista protagonista insieme a Carlo Verdone, che del film ha curato pure la regia. Ma stasera è atteso il pienone a Piano Umberto per la proiezione di Innamorato Pazzo, il capolavoro di Castellano e Pipolo del 1981, che dà il nome alla manifestazione che ha consacrato la Muti in coppia con Adriano Celentano, bissando il successo di un anno prima del bisbetico domato. Per chi ama il grande cinema italiano, questi ad Eccicatena sono giorni di giubilo e di festa.